Una buona giornata amici che ci seguite. Condizioni meteo più stabili sull'Italia in questi ultimi giorni salvo sull'estremo sud interessato ancora dalle piogge e dai temporali. Detto quanto vediamo quale sarà la tendenza meteo sull'Italia per il prossimo fine settimana. Il cedimento dell'anticiclone e il conseguente inserimento di una saccatura di bassa pressione derivante dalla depressione in transito sulla Scandinavia causerà un veloce passaggio perturbato sull'Italia nella giornata di venerdì con nuove piogge prima sulle regioni di nord-est e su quelle adriatiche centrali poi anche su quelle meridionali nella giornata di sabato 7 ottobre. Il tutto accompagnato dall'ingresso di venti settentrionali e temperature in calo specie sui settori orientali della penisola durante tutto il fine settimana. Non si esclude la possibilità anche di qualche fiocco di neve sui settori alpini confinanti con l'Austria fin sotto i 1500 metri di quota. Nella giornata di domenica 8 ci attendiamo poi un tempo di nuovo stabile con cieli quasi ovunque sereni grazie ai venti di tramontana più secchi. Al momento è tutto, seguite i prossimi aggiornamenti sul tempo in Italia e un buon fine settimana.